Sì, sono sotto a scala, ma c'è un più bello. occhio il pitello... occhio il pitello sulla scala ma angolavano eh chi sto è? la scuola mia era una sottiscale... Seba quando è che ti prendi il diploma di maturità Seba? tra un anno? sei in quarta superiore? ma quindi ci vai a scuola Seba che stai fino a aereo di notte e sei andato in giro a forza? io pensavo che faceva tanto va bene la domanda è perchè dovresti farlo? il ballo di oracio e gabriele? prevedo una tragedia non da ballare prevedo una tragedia non sapete il pitello? gabriele ha picchino i vigni i tuoi cime? o i cime no? vi tagliate i belluchini e non ci pensate a fare i cime si posso farcici di fare i cristiani seri? tipo che staccia davide io ah 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 così facciamo il ballo con le ragazze eh e quale ragazze? to mamma, to soro, to tia la sorella di... A voi stanno aspettando. La sorella di Minato, Minatella. Minatella, sai che carina Minatella? Quasi quelli che ci fanno un messaggio di Instagram. Poi tu passato Minato mi fa caricare la pubblicità. Aspetta, no, mi metto con la mouse e cadastriare. Ti sei sballato tutto questo. Cambiamo discorso. Sei stato bacciato sempre. Sei ripetendo, vero? Mi chiedi, scetto. Scetto, pensi sempre a caricare i videojoints. Cazzo è Tomo Taci Life. E allora è io DaiWatch, però io diciamo Tomo Taci Life. A tutti gli sfunghi roti che ci piacciono a sé. Oh, mi fate pusciare da Toli, vergognati. Ma io sono un problema. No, 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 no. Ma tu mi fici? Mangalo tu. È bianco. Scogliato. Bravo, ragazzi, bravi. Ottimo lavoro di squadra, eh. Perciò, moltigui, sentate che lo sbargo. In chiamante, mi fico di cacare in copia. Abbiamo la bombola! Abbiamo la bombola, abbiala! Abbiamo la bombola, abbiala! Buona, io devo nulla usare… ecco questa mappa l'ha fatta mattex sì sì ho salvato il codice è questa metti pronto che se noi ci giochiamo loro poi visualizzano i video chi c'è stato e poi vedono salvano le clip loro dei video hanno detto così loro se vedono chi ci ha giocato di più e poi dopo c'è scritto mattex visto l'ha fatto a lui l'ha creato io sono amicizia del polio boi colosseo però non l'ho fatto mai vediamo che sono salvati il codice ora te lo mando cosa mai codice se no te la metti delle preferite questa mappa stiamo con me l'ha fatta allora ha fatto forse è per prendere xp no è per combattere anzi può scavaccare c'è una pergamera là sopra e non ci arrivo c'è una pergamera là sopra ma non ci arrivo c'è una pergamera che ci arriva hai spietta che mi sto mangiando davvero fai l'uferlo scusami oh è bella sta mappa però e l'ha fatta lui si ma c'è una pergomena la sopra guarda come si fa a prendere vabbè non si può prendere no aspetta no secondo me devi prendere l'ingosso d'acqua ho morto se dobbiamo finire il gioco ecco l'ho fatto l'ho presa punto interrogativo segreto gladiator devi fare la ringorsa da là ah poi si chi forse ce ne sono altri vediamo si può uscire da qua no dalla mappa si no dai io dal gioco a più cucino te la puoi mangiare la tutela uoci 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 oggi ci stai rompendo i conno a tutti i pari ci stai rompendo i conno a tutti i pari ci stanno ah bella l'acqua prezzo che è davide che scingazza guarda ok 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 è vero? si vabbè no vabbè un cuore abbiamo fatto lo stesso modo si illumina anche la schiena comunque questa musica sembra di gta è di gta comunque della radio secondo me ce l'hai pure tu? quello si ah forse te lo avevo regalato io si lo stavo dicendo ora ridi ridi te ste estasita Seba seba questo qua burla questo qua ogni volta io ho detto ma sei da fidac Così fa soddisfazione Andiamo in negozio Ancora da lì un shock Andiamo in negozio Questa è Dua Lipa È bello Davide senza nessuno Io non sono buona a me mi piace proteggermi Magari che sono scasso Perciò insieme Perciò insieme ho comprato la mani da switch quella bella tv si anche la schedina ci ha comprato quella che è un bacco si la schedina si così ne ho due mi sapevo che dovrebbe apposciare tutte le cose aspetta ma no 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 è stato riuscito a preparare l'occhio, quindi l'è verrà l'hipo e quindi la notte la jana e poi la notte l'ho e poi non è riuscito a fare l'occhio e poi non è il giusto e poi la notte l'occhio e poi la notte la notte e poi non è il giusto e lei dice no, non so voglia e quello poveretto ha un altro momento per altri ragazzina, vogliamo parlare? no, ho parlato no, banno, lo banno, va bene, se mi insulta si, se mi insulta si ragazzi posso giocare con una monica con te ragazzi adesso sono solo sab, quindi punti scrivati ok per ruotare ragazzi adesso sono solo sab, quindi punti scrivati ok per ruotare ti ho fatto partire? ti ho fatto partire? e chi ti ho fatto? io ho manco eh ragazza sta inzuttando me e anche mod, ma perché suonestando me guarda io sono come un po' caro, come un po' caro, come un po' caro. Grazie a tutti. 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 Torniamo alla lobby? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.